Bentrovati su Crystal News ragazzi, vi ricordo come sempre che questo episodio è disponibile anche in un podcast dedicato, il link è qui sotto in descrizione, basta che cercate Crystal News su Spotify, Apple Podcast, eccetera eccetera Questa puntata ovviamente avrà un pochettino come centro i Golden Joystick Awards che ci sono stati, di cui dobbiamo parlare ma ci sono tante altre notizie importanti, ragazzi, questa puntata sarà ricca di tante robettine belle, quindi cominciamo subito Allora, dicevamo, Golden Joystick Awards 2021 si sono conclusi sostanzialmente da poche ore e è un'occasione in cui vengono premiati i titoli migliori degli ultimi 12 mesi è uno di quegli eventi presentato da GamesRadar, in questo caso, in cui sostanzialmente ci sono delle categorie e i videogiochi vincono su certe determinate categorie e ce ne sono alcune che però sono un pochettino peculiari, tipo il miglior gioco di tutti i tempi e credo che farà un pochettino discutere questo gioco qua, però, insomma, tutto sommato ci sono anche gli estremi Comunque, vediamo un po' com'è andata Tutti i premi dei Golden Joystick Awards 2021 da Videogiochi Italia Si è tenuta la cerimonia dei Golden Joystick Awards 2021 che è remessa annuale che premia i titoli migliori degli ultimi 12 mesi Partendo da una selezione di videogiochi basata su recensioni e valutazioni nella stampa specializzata a mettere alla parola definitiva sulle premiazioni ci pensa il pubblico con il suo voto Le categorie sono tantissime, vediamole insieme, scoppiamo insieme chi ha vinto in ciascuna di queste Sì, questa è una cosa che effettivamente dovevo puntualizzare a mettere alla parola definitiva sulle premiazioni ci pensa il pubblico con il suo voto Quindi è un tantinello, alcuni hanno parlato del premio dei giocatori ma è un po' più complicato di così, comunque, più o meno, avete capito di che si tratta I migliori hardware e i migliori studi Per premi assegnati sono quelli relativi alle piattaforme di gioco ai publisher e sviluppatori Best Gaming Hardware PS5 Ultimate Hardware of All Time Val PC Lo studio dell'anno è Capcom E Breakthrough Award Housemarque con il suo Returnal Quindi sì, a quanto pare, il PC si porta a casa il titolo di migliore piattaforma di tutti i tempi E Housemarque con Returnal, comunque, diciamo, una certa innovazione I migliori elementi dei videogiochi Specifiche caratteristiche come Best Storytelling, Life is Strange True Colors Best Visual Design, Ratchet & Clank Rift Apart E ci sono anche degli altri titoli Oltre all'assegnazione fatta direttamente a Capcom Che sono stati vinti proprio da Resident Evil Village Ovvero Best Audio Resident Evil Village Best Performer Maggie Robertson con Lady Dimitrescu Infine, per premi dedicate a alcuni elementi di determinate opere Ci sono anche quello dedicato alla migliore espansione E a quello per la community Ovvero Best Game Expansion Ghost of Tsushima Iki Island Best Game Community Final Fantasy XIV Ok E i premi ai migliori giochi Mobile Game of the Year League of Legends Wild Rift Still Playing, ovvero longevità, mi viene da dire Final Fantasy XIV di nuovo, ha vinto due premi a sto giro Best Indie Game, Death's Door Best Multiplayer Game, It Takes Two Tecnicamente rientra nella categoria E Most Wanted Game, Elden Ring E vabbè, su questo non c'era molto da dire Poi, ragazzi, c'è PC Game of the Year, Hitman 3 Nintendo Game of the Year, Metroid Dread Xbox Game of the Year, Psychonauts 2 PlayStation Game of the Year, Resident Evil Village Critic Choice Award, è andata a Deathloop E poi Ultimate Game of the Year Quindi il vincitore proprio del Game of the Year Secondo Secondo la Golden Joystick Awards Resident Evil Village Sì E Ultimate Game of All Time, Dark Souls Il primo Proprio questo qua Per cui, insomma Resident Evil Village è il goti Del Golden Joystick Awards 2021 E Ultimate Game of All Time Miglior gioco di sempre Che è Dark Souls Una delle opere fondanti del successo Degli sviluppatori nipponici di From Software Qui non è riportata Ma Miyazaki ha già detto Insomma, sono veramente Mi sento incredibilmente onorato Di questa cosa, eccetera Quindi già è arrivato Miyazaki ha già commentato E va bene Parliamo in un secondo, ragazzi Devo dire che Per carità Secondo alcuni Golden Joystick Awards Contano veramente poco Perché le cose vengono fatte un pochettino a caso Essendoci tutti quanti I voti degli utenti Però Come in tutte queste situazioni, ragazzi Se non altro Ci dà modo di Dare un'occhiatina Su quelle che sono Certe preferenze E certe altre cose Che vengono fuori Nel mondo Dei videogiochi Vi ricordo Che non molto tempo fa Il Game of the Year L'ha vinto Fortnite Perché? Perché è un fenomeno di costume, ragazzi Fortnite è stato un fenomeno di costume Per tanti anni Adesso è un pochettino calato Voglio dire Adesso non è più sulla cresta dell'onda più assoluta Ma è ancora giocatissimo Per esempio E Dark Souls Che ha vinto il miglior gioco di sempre Non lo so Io personalmente Sono uno di quelli che Non gradisce particolarmente I Souls E i prodotti From Quelli con quello stile Quindi capite come I miei gusti siano completamente diversi Ma pure se i miei gusti sono diversi Eppure se io avrei fatto delle altre scelte Bisogna contestualizzare un attimino E cercare di capire Che anche Dark Souls È stato un fenomeno di costume Veramente importante Dando vita Non soltanto a un certo immaginario Quello dei Souls E a tre giochi diversi E probabilmente arriverà anche un quarto Tanti altri prodotti Che hanno seguito Quello stampo Da parte di From Software Ma ha dato anche origine A un sottogenere Per quanto io non gradisca Questo sottogenere Non si può assolutamente negare Che sia stato incredibilmente influente Quindi Non lo so se gli avrei dato Miglior gioco di sempre Però è sicuramente un titolo Estremamente rilevante Nel mondo videoludico E a sto giro Hanno voluto dargli questo premio Ma probabilmente l'anno prossimo La cosa cambierà Quindi è una cosa Che è molto più effimera Rispetto ad altri titoli Che già sono effimeri Altri titoli Dati da eventi come questi Ok? Tipo il vincitore Il gioco dell'anno Per quanto vi riguarda ragazzi Lascia sempre un molto Il tempo che trova Il premio in sé Quello che mi interessa È la discussione Che c'è intorno D'accordo? Quindi a questo punto Fatemi sapere anche voi Un pochettino Che cosa ne pensate Perché credo che ci sia Uno spunto di discussione Vi prego di Non prenderla Troppo sul serio Questa cosa qua Perché Io credo che non vada Presa Troppo sul serio Dite un pochettino Quello che pensate Date qualche impressione Suggerimento E parliamo insieme E a proposito di parlarne ragazzi C'è un qualcosa Di cui abbiamo chiacchierato Molto spesso È un personaggio Che è al centro Di rumor e leak In continuazione Ovvero Kojima Con la sua Kojima Productions Autore di Death Stranding Un titolo di Grande successo E anche molto particolare Come Come titolo Ovviamente È sempre al Al centro di molte cose Che riguardano Nel mondo Videoludico E periodicamente Si trova Diciamo Improvvisamente Tra gli sviluppatori Di un qualcosa Oppure E sta per arrivare Qualcosa di veramente importante A sto giro però Ragazzi C'è una sorta Di aggiornamento Circa Meno quasi Ufficiale Su una cosa In particolare Quindi Di questo Dobbiamo Parlare Perché non è Soltanto un rumor Kojima Productions La sceneggiatura Del nuovo gioco È pronta Hideo Kojima Aggiorna Sullo stato Dei lavori Il nuovo videogioco Di Hideo Kojima Sembrerebbe essere In piena fase Di produzione O almeno Questo suggerisce Uno degli ultimi tweet Del leggendario Sviluppatore Giapponese Secondo quanto Dichiarato dal fondatore Di Kojima Productions La fase di pianificazione Del nuovo progetto È terminata Così come i lavori Sulla sceneggiatura Al momento Lo stesso Kojima Sta revisionando Lo script E sperimentando Con tutto il resto Probabilmente In riferimento Al gameplay Kojima Productions Ha ufficialmente Aperto le assunzioni Per la realizzazione Di un nuovo progetto Un anno dopo La pubblicazione Di Death Stranding Nel mese Il dicembre 2020 Anticipando Che nel nuovo gioco Ci saranno Mecha e Mostri Due elementi Comparsi in praticamente Tutti i lavori di Kojima Poche ore fa Lo stesso Hideo Kojima Ha pubblicato Il post visibile In basso Confermando L'esistenza del progetto E aggiornando Di fan sullo stato Dei lavori Ecco qua Ecco qua Lo scorso agosto Anche Norman Reedus Aveva rivelato Di essere in trattativa Per riprendere Il ruolo Di Sam Porter Bridges Confermando Sostanzialmente L'esistenza Di un outline Per un nuovo progetto Ambientato E l'immaginario Di Death Stranding Recentemente Tuttavia Kojima Productions Ha anche aperto Una divisione Dedicata a film e serie tv Ne abbiamo già parlato Insomma Ragazzi Geof Kigli Ha commentato Il post di Hideo Kojima E visto che Il suo dalizio Tra i due Non possiamo escludere Una possibile presentazione Del nuovo progetto Durante Game Awards 2021 Beh ragazzi A quanto pare C'è qualcosa di Abbastanza concreto In tutto questo Cioè io credo Che qualcosa Si stia veramente Muovendo Perché Kojima stesso Ad averlo detto Ora Attenzione bene Che sia pronta La sceneggiatura In realtà potrebbe Vuol dire Molto Come potrebbe Non voler dire Un gran che Perché prima Che il gioco Arrivi in una fase In cui viene Effettivamente presentato Come tale Come un gioco Con tanto di gameplay Eccetera Ne passa parecchio Di tempo Vi ricordate Che come fu All'inizio Death Stranding Con quei teaserini Di cui non si capiva Assolutamente niente Non si capiva il gameplay Zero sotto zero Io sono pronto A scommettere Che succederà La stessa identica cosa Nel momento In cui verrà presentato In maniera Criptica Come è solito Kojima fare Anche il nuovo Titolo E ci saranno Mille Mille Speculazioni Probabilmente Per anni Perché Insomma Kojima Kojima non è affatto lento Come spesso si è detto Come sviluppatore Però Insomma Sviluppare un gioco Specie di questa entità Richiede Un pochettino di tempo Quindi ragazzi Sembra esserci Un Un abbozzo di sceneggiatura Abbastanza In fase Avanzata E Non sappiamo però Altro Non sappiamo Che cosa altro Si sappia di questo titolo Né che cosa sia Nulla Effettivamente però Io vedo come Possibile Più no che sì A dir la verità Per come la vedo io Ma è possibile Una presentazione Ai Game Awards Del 2021 E che vuol dire Tra pochi giorni Ragazzi E se non è questo Probabilmente sarà il prossimo Game Awards Perché sapete Gaff Kigli ci tiene A tenersi stretto Kojima E compagnia bella Quindi Questo è quello che sappiamo Al momento E non c'è molto altro da dire Però Kojima attira Sempre l'attenzione Quanto ci scommettete Che se ne chiacchiererà Alla stragrande Ancora e ancora e ancora Vabbè D'altronde Lo stiamo facendo anche noi E' anche normale Che sia così A proposito di cose Che è normale Che siano così ragazzi Microsoft Con la sua campagna Di acquisizioni E le nuove console Eccetera Ovviamente ha attirato L'attenzione di molti Soprattutto negli ultimi anni Con una revisione completa A propria filosofia Soprattutto per quanto riguarda Il dipartimento gaming Ok Con le nuove Xbox Nuovi servizi Come il Game Pass E tante altre belle cosettine Recentemente Ragazzi Durante il ventennale di Xbox C'è stata Una sorta di Presentazione E celebrazione In cui C'era un Un museo virtuale Ok Tra le cose che sono scappate fuori Da questo museo virtuale C'è una cosa bellissima Microsoft Eccola surreale lettera Con cui tentò di acquisire Nintendo Già Proprio così Questo periodo Microsoft Ha in un momento I grandi festeggiamenti Perché il 2021 È il ventennale Di Xbox Eeeh Fa anche usando Cioè Ripercorre tutta la sua storia Lo fa anche usando Gli storici personaggi Della vita di Nintendo Come Reggie for Same Che di recente Ha partecipato a un panel Di Xbox Due compagnie Legate a un filo rosso Del destino Visto che Vent'anni fa Microsoft tentò Di acquisire Nintendo Che per tutta risposta Rise per un'ora Una storia che riemerge oggi Grazie al museo virtuale Di Xbox Che è stato costruito Per il ventennale Dal quale saltano fuori Tantissime informazioni Interessanti Tra i tanti segreti Curiosità e memorabilia I colleghi di Kotaku Si sono accorti Che è stata pubblicata La lettera Con cui Microsoft Contattò Nintendo La lettera Che non è stata pubblicata Comunque in maniera Proprio integrale Però è datata A 1999 Da parte del vicepresidente Xbox Rick Thompson Nei confronti Di Nintendo Of America Da quelle frasi Che emergono Sotto la grande scritta Si può capire Che è una risposta Alla reazione di Nintendo Di qui sopra Visto che Thompson Si dice comprensivo Verso la preoccupazione Dei dirigenti Di Nintendo Tra le righe Letteralmente Si legge anche Che l'intenzione Microsoft Era quella Di rendere Dolphin La più grande Console di sempre Ovvero Di collaborare Allo sviluppo Del Gamecube Il nome finale Del progetto Dolphin Al lancio Gamecube Che ha compiuto Effettivamente Vent'anni Proprio Pochi mesi fa Pensate se fosse stata Una console Sviluppata insieme A Xbox Ragazzi Questa è una cosa Che un attimino Cioè Provate a pensare Che cosa sarebbe successo Nel mondo del gaming Se questa cosa Fosse andata in porto Se Microsoft E Nintendo Avessero unito Le forze È particolarmente Difficile Pensare a una cosa Del genere Ragazzi Perché Noi adesso L'idea che abbiamo Di Microsoft Contemporanea Cioè negli ultimissimi anni È completamente diversa Rispetto a quella Di qualche tempo fa Microsoft prima Era davvero Differente E la Diciamo L'apertura nei confronti Degli altri studi E l'apertura nei confronti Di idee E sviluppo di videogiochi Acquisire studi Ma lasciarli lavorare Sviluppare servizi E non cercare Necessariamente Di vendere console È quasi l'opposto Di quello che Microsoft tentava Di fare Una ventina D'anni fa Anche 15 Insomma Ma anche 10 No E quindi Fa un pochettino strano E uno per capirlo Dovrebbe ritornare Alla Microsoft Di quegli anni là Ma è veramente difficile Come sarebbe Il mondo del gaming Quindi? Vi dico la sincera verità Non lo so Però Se devo andare Completamente a istinto Per dirvi la sensazione Quella mia Non lo so Non credo che sarebbe È stata una buona cosa Microsoft Ha seguito la sua strada Nintendo Ha seguito la sua strada E io credo Che questo tipo Di varietà Sia un bene Nel mondo del gaming Che mescolare le cose In maniera troppo rigorosa Cioè Soprattutto Con Il tipo di Personalità aziendale Che hanno Microsoft E anche Nintendo Mi viene Mi viene da dire Io Ho la sensazione Che non sarebbe andata Proprio una gran meraviglia Quindi Sapete che c'è Meglio così Però Insomma Questo è un documento Importante E vorrei Sottolineare il fatto Che è uscito Per volontà stessa Di Microsoft Perché fa parte Delle cose mostrate Nel museo Xbox Hanno voluto mostrarla Vabbè Ragazzi Anche questo È effettivamente Un cambio di atteggiamento E a proposito Di cambio di atteggiamento Ragazzi Presunto Oppure reale Parliamo un attimino Di Battlefield 2042 Il lancio Decisamente Non è andato Un gran che bene Ci sono un sacco Di problemi Moltissimi giocatori Si stanno lamentando Non tutti C'è chi sta Avendo Un'esperienza Assolutamente Precisa E sta lotando Il nuovo Battlefield Ma Mi sembrano Quelli che Al lancio Di Cyberpunk Dicevano Di non avere Nessun problema Mica mentendo È solo che I problemi Sono tanti E il numero Di giocatori Che si sta lamentando È decisamente Troppo alto Perché sia Soltanto Una shitstorm Campata In aria Beh Allora Iei e Dice Si stanno mettendo Di buona Insomma Di buona volontà Credo Per tentare Di risolvere Le cose Che cosa Stanno facendo Battlefield 2042 L'impegno Di Iei e Dice In arrivo 3 update Con miglioramenti A tutto campo Battlefield 2042 Disponibile Sul mercato Da pochi giorni E l'accoglienza Riservata Lì dai giocatori Non è stata Delle migliori Tra bug Crash Problemi al server Gravi mancanze Un pessimo bilanciamento Delle armi È facile parlare Di partenza in salita Ma poche ore fa Iei e Dice Hanno dichiarato Che la maggior parte Di questi problemi Sarà risolta Nell'immediato A partire dal 25 novembre Bam In un nuovo comunicato Indirizzato ai fan Dice ha promesso L'uscita di due update Prima della fine dell'anno Una a novembre Una a inizio dicembre Un terzo update È attualmente in programma Per il periodo antecedente Le feste Subito dopo Subito prima Di Natale Quindi a scanso i rinvi Dell'ultimo minuto Avevano pubblicati Ben tre update Nel 2021 Ora Ascoltate bene Per quanto riguarda I cambiamenti La lista è praticamente Infinita Ma di seguito Vi riportiamo I più importanti Voglio leggerveli Miglioramento Stabilità dei server Alla mira assistita All'IA dei bot Riduzione La dispersione Di proiettili Durante gli scontri a fuoco Revisione Del rinculo Di alcune armi Tra cui il PP29 E riduzione Dell'efficienza Di alcune armi Antiveicolo Revisione Del sistema Di progressione Condiviso tra diverse modalità Ovvero classica Portal e Arzon Per ridurre il numero di casi Di XP farming Server portal Creati appositamente Per ottenere velocemente Punti esperienza Era difficile Pensarla prima Questa cosa Risoluzione di bug Che rende impossibile Reanimare un soldato Ucciso vicino A un oggetto Miglioramenti A respawn All'interfaccia utente Perché disegnarla Fin dall'inizio Faceva schifo Miglioramenti Alle performance Oltre 150 modifiche Apportate alle mappe di gioco Bilanciamenti a veicoli Armi e abilità Specialisti Riduzione di bug E poi Dice conferma che L'introduzione Nella tabella Appunti di fine Partita Della chat vocale Sono oggetto di discussione Che il team sta considerando Se aggiungere o meno Queste due funzioni In basso Il changelog Completo In lingua inglese Ora Ragazzi Siccome Molti mi dicono Che sono un po' Troppo critico Che mi lamento Sempre di troppe cose E che i giocatori In genere Sono troppo critici Partiamo dalla cosa positiva D'accordo? Allora Bene Che tutte queste cose Stiano venendo risolte Quando un'azienda Si mette in gioco Si scusa per lo stato delle cose E fa del suo meglio Per Ristabilire l'ordine Offrire un buon prodotto Questo è ovviamente un bene Un plauso A DICE Per aver Proposto tutte queste cose Va bene È un'ottima È un ottimo passo avanti Ma questi sono Queste sono cose Che sono degne di una beta Queste sono cambiamenti Da una beta Al lancio Non dal lancio Alla risoluzione Dei problemi post lancio Dannazione Perché È una lista Talmente Grande E piena di roba da fare E con delle cose Che sono talmente Tanto Assurde No? Io sono andato un pochettino Più nel dettaglio Io purtroppo Non ci ho potuto giocare A Battlefield E ho perlomeno Dopo la mia esperienza iniziale Mi sono rifiutato Di andare avanti Con il personaggio Che sparava in automatico In continuazione Senza nessuna possibilità Di fermarlo Nonostante abbia tolto Il controller E i driver del controller Mi sono semplicemente Rifiutato di andare avanti Perché ritengo Che sia inaccettabile Che un gioco Sia ridotto così Al lancio Ma questa è una scelta mia Tanti altri hanno risolto E ci stanno giocando Ok? Io ho approfondito Per cavoli miei Andando a vedere Un pochettino di cose Di gente che è Fan di Battlefield Da un sacco di tempo Ora Questa roba qua È troppa Sono troppe cose Che vengono risolte Post lancio Stanno dicendo Che vi hanno lanciato Una beta Questo è un gioco in beta No? E quello che Che stavano spacciando Come un gioco in beta Era un'alfa È di nuovo La stessa cosa Nel mondo del gaming Succede adesso Troppo spesso Cioè da troppo tempo Esattamente questo Cioè Le alfa sono Punto X Dello sviluppo Le beta Sono le alfa E il lancio È la beta E i sei mesi Dopo il lancio È il gioco di lancio Vero e proprio Se non un anno Come nel caso Di certi giochi Tutto questo Ragazzi Dal mio punto di vista Non è accettabile Perché nel momento In cui tu tiri fuori I soldi È un gioco Che viene Lanciato Sul mercato Nessuno pretende Che sia perfetto E adesso ne parliamo Ma almeno Fruibile Non puoi pensare A questa quantità Di cose da fare Post lancio In tre update Nel giro di un mese Perché il gioco È così rotto Che hai bisogno Assolutamente Di una manutenzione D'emergenza Lunga due mesi Non è possibile Fare così Non va bene Non puoi prendere 70 euro Alla gente Al lancio Probabilmente anche di più In alcuni casi E offrirgli questo Eh Ora Io non sono neanche Uno di quelli che dice I giochi al lancio Devono essere perfetti Oppure ancora peggio Eh ma una volta I giochi su cartuccia Erano veramente così precisi Sì ho capito I giochi su cartuccia Erano anche però Un centesimo Riguardo Come complessità Cioè come parti in movimento Di un sistema complesso No? Quindi per favore Non è Il paragone Non sta in piedi minimamente Però Però questo non vuol dire Che i giochi Non debbano essere fruibili Casomai È la sensibilità Del giocatore Che deve abituarsi Al fatto che i giochi Possono non essere Al cento per cento Perfetti al lancio Che possa esserci Qualche cosettina Che non va Al day one Nella prima settimana Sono cose che possono capitare Ormai I giocatori Questa cosa La accettano anche Ma un conto È accettare Un gioco Non perfetto Un conto È dover Ingollare Un gioco Rotto Che ha bisogno Di questa quantità Di modifiche Non è possibile Non è possibile Quindi ragazzi Fatemi sapere un pochettino Voi che cosa ne pensate Al riguardo Io mi sono già espresso E lascio Gli appassionati Di Battlefield Fare il resto Io Il fatto è che Boh È di nuovo La stessa cosa Di Cyberpunk Mi state dicendo Giusto? Di nuovo Per l'ennesima volta Vabbè Arriverà il momento In cui l'industria Capirà Giusto? Ecco Quel momento arriverà In cui non gli daremo più soldi Per questi prodotti Ecco quando arriverà A proposito di cose Che arrivano ragazzi A sto giro però Inaspettate Non sono notizie brutte Su Activision Per una volta Su Activision Blizzard Per una volta Devo darvi quella che Secondo me È una buona notizia World of Warcraft Ragazzi Il famoso MMO Che in questo momento È in uno stato Un pochettino particolare Adesso ne Adesso ne parliamo Però insomma L'MMO più famoso Di tutti i tempi Il mio Gioco del cuore Da Da ben più di 12 anni E Dobbiamo parlare Di una cosa Che sembra essere Venuto fuori Un rumor Che riguarda World of Warcraft Che potrebbe essere Alquanto rivoluzionario Ecco diciamo così Guardate un po' World of Warcraft Su Xbox Secondo un rumor Verrà annunciato Ai The Game Awards 2021 Mentre continua A essere alta L'attenzione Su Activision Blizzard Vabbè eccetera eccetera Sembrerebbe infatti Che alcuni utenti Abbiano analizzato Il codice sorgente Del portale ufficiale Xbox E abbiano estrapolato Alcune informazioni Molto interessanti Sebbene non vi siano Prove del fatto Che le informazioni In questione Siano realmente State ricavate dal sito Al momento Sono stati pubblicati Sullo screenshot Le immagini finite Sui forum Come Reset Era Fanno riferimento All'arrivo Di World of Warcraft Complete Edition Su Xbox Il prossimo 9 dicembre 2021 Come potete facilmente Intuire La data in questione Potrebbe suggerire Il cosiddetto Shadow Drop In occasione Dei Game Awards 2021 Ovvero Un annuncio all'evento Con pubblicazione Immediata Al momento Non vi è modo Di sapere Se tali rumor Abbiano o meno Fondamento E dobbiamo attendere L'evento organizzato Che offkigli Per scoprire Se l'MMO Più popolare Di sempre Stia per approdare Su nuove piattaforme Ragazzi Vi dico subito Una cosa È una Ottima mossa Questa Cioè È una mossa Che io penso Che World of Warcraft E quindi Blizzard Avrebbe dovuto fare Da anni Portare World of Warcraft Anche al di fuori Del mondo PC Per quanto difficile sia Per quanto Sono Già li sento Gli appassionati Che mi urlano Sulle orecchie Ma che dici Oh mio dio I consolari Su WoW Beh perché Final Fantasy 14 Non è su console Perché WoW Non può esserlo Vedrete perché Non è stato pensato Per console Fino dall'inizio Vabbè Gli adattamenti esistono In realtà c'è un plugin C'è un addon Anzi scusate Di WoW Che ti permette Di utilizzarlo Con un controller Esistono già Queste cose Fatte dagli utenti Perciò Lo Diciamo Lo scoglio Console Non è per niente Una cosa semplice Me ne rendo conto Tutti gli addon Tutta l'interfaccia Eccetera Riadattarla Sarà un grandissimo casino Però io la vedo Come una cosa possibile Ragazzi E come una cosa Onestamente desiderabile Per avere un pochettino Più di carne fresca Ok Io credo che World of Warcraft Abbia bisogno Di nuovi utenti Che entrino E che abbiano esperienza Del gioco Al di là di una cerchia Ristretta E che abbia bisogno Di Una ventata di aria fresca Anche ovviamente Dal lato dello sviluppo E qui arriviamo Alla nota dolente Purtroppo lo stanno facendo In un periodo In cui Activision Blizzard Non se la passa Decisamente Molto bene Perciò Ammesso che sia Tutto quanto vero E ovviamente Ne dubito Nel senso che Questo rumor È piuttosto Grossetto Da mandare giù Cioè è davvero Difficile che sia così Ma c'era già stato Un rumor All'uscita di Shadowlands Per un supporto Al controller Diciamo Ufficiale Da parte del gioco E lì Un attimino Mi si è acceso Una lampadina Ma al di là di questo Ragazzi È un momento Molto delicato Per World of Warcraft È Il 2021 È il primo anno In cui Io effettivamente Non sto consigliando Alla gente Di giocare World of Warcraft Ma altri giochi Perché credo Che lo stato del gioco Sia Abbastanza Discutibile Diciamo così Però Questa è una cosa Che dovete decidere Voi stessi Ovviamente Con i vostri soldini Quindi Io per quanto mi riguarda Lo spero Che arrivi su console E che Le cose cambino un po' Che si evolva Un pochettino Diciamo La community Di World of Warcraft Con l'arrivo di nuove persone Nuove piattaforme Benissimo Fatemi sapere voi Che cosa ne pensate Ora ragazzi Passiamo Alla news a ruota Molto velocemente Perché se no Questa puntata Dura un'eternità Gran Turismo 7 Il nuovo video Ribadisce l'uscita A marzo Su PS4 E PS5 Non c'è molto da dire Una lunga lista Di cose Per l'uscita Del gioco Un approfondimento Sul senso Yamauchi Per il realismo Di GT7 Focus di Sony Sui bonus previsti Per chi Prenoterà La prossima iterazione Di Gran Turismo Pacchetto aggiuntivo Con tre boli Da pilotare Un DLC In questione Con il garage Virtuale E la Mazda RX Vision Tanti altri giochi La versione Sì Del venticinquesimo Anniversario Ci sarà anche Una Toyota GR Yaris Speciale E anche ulteriori Incentivi digitali Come un milione Cinquecentomila Crediti da spendere Nel gioco Trenta avatar PSN Insomma Un sacco di roba Ma la cosa principale È la conferma Dell'uscita Per il 4 marzo 2022 Voi direte D'accordo Ma queste sono Tutte cose Minori Non mi farai mica Una news Sul fatto che Un gioco è confermato Per l'uscita Che diavolo di news è Se era già stato Confermato Una certa Data di uscita Perché dovrebbe essere Una notizia La conferma Di questa data D'uscita Perché è il 2021 Ragazzi La conferma Di un gioco Che non viene rimandato È una notizia In sé E Ovviamente Poi ci sono Tante altre cosettine Però Vabbè Insomma La notizia è questa Ragazzi Capito? Quindi No Gran Turismo 7 Uscirà Non verrà rimandato Poi ragazzi Atari E i progetti per il futuro Investe in Unstream E comprerà forse Moby Games Da tempo Atari si sta muovendo Per dare un'importante Scossa al suo futuro E tornare competitiva All'interno Dell'industria Videoludica Nell'estate del 2021 È arrivata la conferma Che Atari tornerà A sviluppare giochi premium Per pc e console Mentre adesso Si muove verso Altri due importanti Affari Il servizio di streaming Unstream Con due nuovi accordi Strategici E il famoso database Videoludico Moby Games Per il primo caso Sono 500.000 dollari Sulla piattaforma Specializzata in retro gaming Con un possibile Margine di crescita Fino a 3,5 milioni di dollari Ma Moby Games Invece Atari potrebbe Acquistare Il sito E tutto il relativo Database Per una cifra Di 1,5 milioni di dollari Moby Games È attualmente Proprietà di Blue Flame Labs Blue Flame Labs Ma a questo punto Non è a descludere Che l'affare vada In porto E Atari è stata anche Una delle prime grandi compagnie A investire su The Sandbox E il suo metaverso E le potenzialità Infinite Quindi ragazzi Allora Atari ancora vi vanta Atari ancora sta facendo cose E sta cercando di rimettersi In careggiata Con tante Iniziative diverse Andando un pochettino Ai margini Dell'industria videoludica E cercando di rientrarci Per ricominciare A produrre Giochi premium E ricominciare a Tra virgolette Contare Nell'industria videoludica Perché sono passati ormai Svariati decenni Da quando Atari Era un nome Estremamente importante Nel gaming Giusto? Non c'è È così che vanno le cose Ragazzi Ma è la storia che va avanti Però Ovviamente Tutti gli vecchi appassionati Dovrebbero ricordarsi Della console Dovrebbero ricordarsi Tanti altri giochi E Vederla ritornare in campo Beh Io mi auguro che ce la faccia E ci offra tante belle cose Poi Gente Matt Goldman Senior Creative Director Di Dragon Age Lascia Bioware Purtroppo sì Brutta notizia Matt Goldman Ormai Ex Senior Creative Director La notizia La sua fuoriuscita Alla compagnia È stata confermata Delle Tony Cars Alla redazione di Kotaku Il portavoce Del publisher Statunitense Ha precisato che Goldman Lascia il gioco In ottime mani Dal momento che lo studio Continuerà a portare avanti La visione originale Di Dragon Age Bioware E le Tony Cars Restano impegnate A offrire ai fan Di Dragon Age Un videogioco di qualità Che sia all'altezza Di standard richiesti Dagli utenti Nonostante la defezione Di Matt Goldman Non c'è molto altro Da dire Ragazzi Un brutto segnale Ed è molto tempo Che Molti appassionati Vorrebbero sapere qualcosa Del nuovo Dragon Age Purtroppo però Non si sa un granché E questa è la realtà E non è un buon segnale Questo qui Perché L'uscita Del senior Creative director In un momento In cui del gioco Non si sa niente Potrebbe essere Tranquillamente interpretata Come il gioco Che sta andando fuori binario Giusto? E non starò qui A dirvi che potrebbe Non essere così Mi rendo conto Che molti sono legati Sentimentalmente A Dragon Age Vorrebbero un nuovo titolo Però Ragazzi La storia È che Effettivamente BioWare È un'altra di quelle aziende Sotto EA Che non se la passa Molto bene E che Ha bisogno davvero Di ricominciare A tirare fuori Cose di successo E a convincere Ok? Diciamo così E in ultimo Ragazzi Una cosa Che ci ho tenuto Io personalmente Annunciato Man of War L'RTS Uscirà nel 2022 C'è un nuovo Videogiochi strategia A sfondo bellico In città Anzi Non proprio nuovissimo Ma è una nuova Iterazione Un franchise Particolarmente apprezzato Tagli amati Gli RTS Ovvero Man of War 2 In lavorazione Pesso lo studio Ucraino Best Way Sotto all'occhio vigile Del publisher One Sea Entertainment Eccolo qui Contanto di Reveal Trailer Anche qui Il teatro di scontro È sempre quello Della seconda guerra mondiale Per la precisione Gli sviluppatori Stanno lavorando a Due campagne distinte Dedicate ai fronti orientale E occidentale Del conflitto Permettendoci di guidare Sia le truppe sovietiche Che quelle alleate Tali campagne Potranno essere affrontate Sia in solitaria Che in cooperativa In questo caso Il supporto fino a un massimo Di 4 utenti In contemporanea Alto livello di fedeltà storica Maggiore profondità strategica Grazie anche alla funzione Controllo diretto Può modificare Il equipaggiamento Di ogni singola unità Potenziandolo Riparandolo Man of War 2 Presenterà Tre schieramenti 45 battaglioni Oltre 300 veicoli Richerati con accuratezza storica E dovrebbe vedere La luce su pc Nel corso del 2022 Ma non abbiamo ancora La data ufficiale Sono convinto Che gli appassionati Di strategico Di strategici E gli appassionati Di videogiochi A tema Seconda guerra mondiale In questo momento Saranno piuttosto contenti Perché C'è tornato Diciamo Un brand importante Dello strategico Mi fa molto piacere Darvi queste notizie Perché questo Genere Diciamo così È stato considerato Per tanto tempo Ormai mezzo morto Molto di nicchie Eccetera Ma Stanno venendo fuori Delle cose Piuttosto importanti Non ultimo E Joe Empires 4 Giusto? Quindi Di questo Anche fatemi sapere Un po' Che cosa ne pensate Bene ragazzi Era tutto per le news Di oggi Vi ricordo Come sempre Che questo episodio E anche tutti gli altri Sono disponibili Anche in un podcast Dedicato Il link è qui sotto In descrizione Basta che cercate Crystal News Su Spotify Apple Podcast Eccetera eccetera Grazie mille Per aver visto Questa puntata Noi ci vediamo Alla prossima E come sempre Gente mi raccomando Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi anche Al secondo canale E seguitemi su Twitch Lasciate un bel like A questo video Se vi è piaciuto E qui sotto In descrizione Trovate come sempre Tutti i link Ai miei social E community Come Instagram Telegram e Discord Tutti i link Per supportare il canale E anche il link Alla playlist Con tutte le Crystal News A presto Alla prossima Alla prossima